dal cielo stellato alla legge morale lo stupore della metafora cosmica e del nostro destino due cose riempiono l'animo di una sempre nuova e crescente ammirazione e timore il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me emmanuel kant critica della ragion pratica capitolo 34 riflessioni di mario tamponi il cielo stellato non è solo un capolavoro da contemplazione estetica il cielo stellato è anche un palcocenico profondo e inquietante lo era già nel quinto secolo avanti cristo per talete il pioniere della filosofia occidentale che per la voglia di guardare in alto finisce col cadere nel pozzo dalla servetta di allora che nel vederlo scoppia in una ironica risata e dai ben pensanti di sempre quel curioso viene declassato alla categoria dei romantici distratti è invece il saggio che di fronte alle stelle sente l'irrilevanza del pozzo noi ci accorgiamo del sole con rinnovarsi del suggestivo banalissimo fenomeno dell'eclissi ma poi non ce ne curiamo quasi mai nonostante continui ad essere la nostra fonte primaria di vita di luce ed energia davanti al suo splendore di mezzogiorno i nostri arcaici progenitori si prostravano in ginocchio con sentimenti di venerazione e gratitudine la terra è inesauribile nelle sue manifestazioni di gratuità e bellezza di terre il sole ne conterrebbe più di un milione di soli se ne contano centinaia di miliardi nella nostra galassia e di galassie centinaia di miliardi nel cosmo conosciuto con fenomeni sconvolgenti di supernove buchi neri con masse da milioni e miliardi di stelle nebulosi in processi fantasmagorici di aggregazione e disgregazione campi elettromagnetici e gravitazionali soprattutto vuoti abissali e la luce messaggero veloce come un lampo che in un secondo avvolge oltre sette volte il nostro globo col firmamento racconta alla nostra brevissima fragilità un passato di inimmaginabili miliardi e miliardi di anni questa immensità astrale è una parte minima di quanto l'universo contiene almeno il restante 95% è materia ed energia oscura che la scienza ipotizza per spiegare la rivoluzione delle galassie attorno al loro centro e l'espansione in accelerazione vertiginosa dell'intero cosmo le postula senza neppure supporne il dove e il come se un giorno riuscisse a scoprirle e capirle dovrebbe forse rivedere interamente le teorie e le certezze sull'universo finora conosciuto altro enigma resta la localizzazione dell'antimateria che col Big Bang si sarebbe generata per simmetria nella stessa quantità della nostra materia una questione non trascurabile dato che un incontro delle due comporterebbe il loro reciproco annichidimento la nostra immediata scomparsa non irrilevante né fantascientifica è anche l'ipotesi suggerita da alcune altrimenti incolmabili dell'attuale astrofisica dell'esistenza di altri universi accanto al nostro ovviamente tra loro incomunicabili forse innumerevoli forse infiniti tutta questa realtà osservata e postulata che mi sovrasta è, per dirla con Kant il cielo stellato sopra di me c'è poi la sfera microscopica fino al nanometrico considerata dalla meccanica quantistica che l'abituale classificazione di piccola non ci autorizza a sottovalutare o contrapporre a un grande presunto perché si tratta pur sempre del nostro stesso universo percepito all'inverso con la consapevolezza di quest'ottica rovesciata nell'equivalenza delle dimensioni anche quel sotto microscopico rientra nel sopra macroscopico nel senso della reciproca interdipendenza e intellegibilità banale è quindi la posizione intermedia che normalmente l'uomo attribuisce a se stesso in una immaginaria scala di grandezze fisiche finora il macrocosmo ispezionato con l'ottica ormai universalmente condivisa della relatività generale sembra divergere dal bizzarro nanometrico analizzato con l'ottica altrettanto vincente della fisica dei quanti l'ambizione della scienza è oggi quindi quella di unificare o sintonizzare in una sola equazione macro e microcosmo ma anche le interazioni fondamentali della fisica obiettivo esaltante anche se ridicola è la presunzione di poter così disporre della chiave per detronizzare l'assoluto un assoluto caricaturalmente immaginato piccino piccino imprigionato nei nostri schemi concettuali nelle convenzioni matematiche della nostra effimera cultura un po' di presunzione sarebbe persino verosimile se le verità scientifiche fossero assolute e non come realmente sono storiche, prospettiche funzionali spesso all'istinto di dominio e a interessi di profitto la conoscenza scientifica è necessariamente induttiva e la realtà fisica non ci dice cos'è ma come sembra essere sulla base delle domande che riesce a porle pochissime rispetto alle tante possibili nelle innumerevoli diversità di linguaggi culture e convenienze è anch'essa simbolica comunque formale lo avvertiamo già quando con il nostro sguardo neurologicamente tridimensionale ci confrontiamo con una dimensione in più ad esempio col tempo del modello della relatività generale per orientarci nell'astrazione matematica non possiamo non continuare a servirci di raffigurazioni tridimensionali immaginiamoci quando formule matematiche più complesse ci prospettano 5, 9, 12 dimensioni la matematica diventata con Galileo l'anima della scienza si fa sempre più sofisticata indagini sperimentali con acceleratori e altri strumenti complessi e giganteschi sondano l'estrema profondità della materia quella che ci sta accanto tranquilla e familiare per farci capire che il mondo è pluriforme e nulla è scontato neppure quello che la stessa scienza ci racconta e cerca di predirsi fra 50 anni nel caso ci sarà dato di vivere ancora o fra milioni di anni nel caso la fantasia ci consenta proiezioni così lunghe quanto più la scienza progredisce ed è prodigioso che ciò avvenga tanto più si amplia accanto al successo delle applicazioni tecnologiche il campo degli enigmi risolti degli innumerevoli non ancora emersi e neppure previsti delle domande senza risposta o con soluzioni non sempre compatibili per non parlare delle correlate questioni filosofiche su cui di volta in volta la scienza naturale è tentata di dire la sua senza averne la competenza il mondo fenomenico con una rivoluzione filosofica denominata trascendentale ben più epocale di quella astronomica copernicana e che qui mi permetto di ricordare in forma libera e schematica Kant ci aiuta a capire che il mondo fisico non è un'entità autonoma che preceda la nostra conoscenza è invece il prodotto della nostra percezione ed elaborazione innanzitutto mediante le nostre categorie a priori spazio-temporali principi di materialità significa che il mondo fisico quello della nostra visione quotidiana e della scienza è fenomenico rispetto a quello neumenico reale e cioè una nostra rappresentazione questo costruttivismo conoscitivo che mette in crisi ogni realismo ingenuo di una realtà fatta di oggetti e di un uomo oggetto tra gli oggetti è una conquista definitiva da cui è insensato tornare indietro certo le categorie a priori di Kant si ispirano allo spazio-tempo della fisica newtoniana come contenitori separati immobili e universali degli eventi ma il suo dualismo di fenomeno enoumeno resta valido come schema anche dopo il superamento del rigido spazio-tempo newtoniano in quello relativo e plastico di Einstein ancora sempre come schema l'ottica kantiana resta valida anche dopo il rovesciamento della sua stessa impalcatura metafisica operato da Heidegger da Wittgenstein e dalle varie forme di ermeneutica secondo cui il mondo fisico come quello immateriale si trasforma da raffigurazione in interpretazione con la magia del linguaggio fluido e simbolico in cui abitiamo non ci sono fatti sostiene Nietzsche ma solo interpretazioni e anche questa è interpretazione è come dire che il mondo materiale fenomenico si spiritualizza con la nostra intelligenza che è creativa perché comunicativa a proposito di raffigurazione il fatto che il mondo esterno non è quello che crediamo di vedere potrebbe spiegarcelo qualsiasi oculista anche senza strumenti filosofici la luce riflessa dai presunti oggetti entra nella pupilla simile all'obiettivo di una macchina fotografica con la lente le figure si capovolgono sulla retina da dove per reazioni chimiche ed impulsi elettrici si trasmettono codificate al cervello che non dispone di sale cinematografiche per la proiezione delle immagini originarie vero è che il nostro mondo visivo è il prodotto del nostro processo conoscitivo che non ci consente neppure di supporre cosa e come possono essere gli impulsi di partenza da un presunto fuori per non parlare dei tempi neuronali diversamente compressi dilatati e poi sincronizzati che non corrispondono a quelli di un orologio esterno da notare ancora che dello spettro elettromagnetico della luce emanata dai presunti oggetti l'occhio recepisce una parte infinitesimale sulla costruzione del nostro mondo fisico potrebbero dirci cose analoghe specialisti degli altri organi di senso e zoologi potrebbero documentare la nostra parzialità percettiva rispetto ad animali dotati di organi con tecniche e sensibilità diverse i neurofisici rilevano inoltre che il nostro cervello non registra allo stesso modo tutti i dati sensoriali o stimoli di partenza ma li seleziona drasticamente secondo interessi ed emozioni già nell'atto di riceverli collegarli e memorizzarli ovviamente sotto l'ottica filosofica quella kantiana anche il cervello è mondo esterno fenomenicamente percepito e costruito come qualsiasi altro oggetto fautori dell'oggettivismo naturalistico chiamano in causa il ruolo della matematica attribuita alla realtà fisica come struttura e logica di comportamento una matematica che garantisce una esatta conoscenza quantitativa e comparativa dei fenomeni apre a molte scoperte ancora prima della loro verifica sperimentale e consente un incredibile sviluppo della conoscenza e delle sue applicazioni tecnologiche inevitabilmente si pone però la questione sulla natura della stessa matematica se sia scoperta oppure invenzione cioè se l'uomo scopra quella logica nel mondo oppure se sia lui a trasmetterla al mondo come prodotto della sua conoscenza pare logico pensare come del resto molti matematici autorevoli in sintonia con Kant pensano che vere siano l'una e l'altra cosa a secondo del punto di vista è come dire che la matematica è struttura del mondo costruito dal processo conoscitivo la sfera della coscienza certamente l'universo fisico vive nella e della nostra coscienza intesa come esistere personale come se di questa fosse il palcoscenico la proiezione estensiva il prolungamento virtuale della sua inafferrabile dimensione corporea del multiforme linguaggio espresso o solo pensato dell'immaginazione creativa è anche un fatto che per il significato e il destino del nostro esistere non sono indispensabili presunte verità definitive sul mondo esterno che del resto non ci vengono offerte dalla scienza certamente molto più avara della coscienza quest'ultima col suo flusso inesauribile di bellezza e poesia di scelte e sentieri da percorrere non è pensabile che francesco d'assisi e dante avrebbero vissuto una vita più piena dopo la rivoluzione astronomica copernicana così come galileo e newton con la curvatura spazio-temporale di einstein o einstein con gli approfondimenti contemporanei della fisica quantistica la scienza positiva si confronta solo con oggetti e fenomeni corporei anche quando studia l'uomo come insieme di organi ormoni e altro o quando ne analizza il cervello come sistema di neuroni e sinapsi di impulsi da localizzare e misurare di inconscio e subconscio e di tutto il resto quando nella sfera subatomica la meccanica quantistica crede di superare l'oggettualità considerando le particelle come relazioni e definendone lo stato e l'azione come dipendenti dall'osservatore in realtà l'osservatore coinvolto non è l'uomo come coscienza ma come oggetto misurante dentro un orizzonte di oggetti quando la stessa scienza quantistica sostiene che il tempo non esiste dichiarazione di per sé affascinante in realtà il tempo in questione è un fattore cosificato non è quello esistenziale che attraversa e tesse in ognuno la storia di memorie e progetti di parole e metafore che rinviano di significato in significato e ci trasmettono il senso dell'infinito facendocelo pregustare lungo il cammino la coscienza siamo noi e in ognuno di noi è relazione di cui sono incapaci gli oggetti ognuno di noi esiste come relazione orizzontale con l'altro e verticale con l'assoluto sono due ma in una come capacità di trascendere la solitudine ontologica la relazione con l'assoluto è condizione di possibilità dentro la relazione con l'altro un assoluto che rivelandosi al nostro essere relazione è improprio considerare come sostanza separata ci appare invece come evento fondante che ognuno ha il diritto di raffigurarsi e nominare simbolicamente come meglio crede ma che è un non senso negare perché la solitudine ontologica è astrazione regressione nel pre-esistere se la formula che potrà unificare le teorie fisiche sul macro e microcosmo e sulle interazioni fondamentali è obiettivo scientifico forse un miraggio decisiva è invece l'equazione che ricompone nell'unità il dualismo relazionale dell'esistere ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso nel Vangelo di Gesù di Nazareth questa formula si esprime nelle modalità del discorso della montagna dell'essere e non dell'avere o dell'apparire dell'apertura incondizionata all'altro come singolarità e come comunità della libertà oltre le maschere del debito di gratitudine per l'esistere che ci accompagna non col peso di un dovere ma con la gioia del nostro compimento creativo le modalità sono tutte riconducibili all'essenziale che non è dottrina per presuntuosi e arroganti ma rivelazione per semplici senza calcoli e preconcetti la vera etica non è una normativa a base metafisica ma è la stessa vita relazionale come evento dove non sono i poli io l'altro l'assoluto a caratterizzare la relazione ma è la relazione a configurare i poli l'etica non è qualcosa di destinato ad essere superato dall'evoluzione biologica e neurogenetica ma l'opportunità singolare di riscatto dalla logica della concorrenza selettiva è la scoperta della fratellanza da vivere col dono della forza per riuscirsi non la scienza maletica si richiama scuotendoci personalmente alla più vitale delle evidenze è quanto intende Dostoevsky quando fa dire al principe Mischin la bellezza salverà il mondo la bellezza non nel senso estetico ma come valore etico per il cristiano che Dostoevsky lo era profondamente significa redenzione dove l'assoluto nella nostra relazione con l'altro assume il volto umano del Cristo la bellezza salverà il mondo per condurre tutto all'etica significa tutt'altro che banalizzare la complessità della vita quel riferimento apparentemente esile può ispirare discipline e trattati affollare biblioteche di volumi monumentali sull'agire umano che è autentico solo se resta appunto ancorato al suo principio elementare di relazione altrimenti la scienza positiva da ricerca avvincente sul creato può degenerare nell'oblio dell'esistere la religione da testimonianza di trascendenza può degenerare in dogmatismo e oppressione la politica da servizio degli altri può degenerare in demagogia e affarismo l'economia la gestione del patrimonio comune può degenerare in corruzione e mercificazione dell'uomo la finanza da equa amministrazione può degenerare in speculazione e dominio la comunicazione da informazione e confronto può degenerare in propaganda e manipolazione la tecnologia dalla moltiplicazione delle possibilità può degenerare in dipendenza e idolatria nell'umanità senza etica si alimentano conflittualità intimidatorie guerre che non diventano mondiali solo per la rafforzata deterrenza nucleare lobby invisibili e mafie ramificate con moltitudini di affiliati e sostenitori la sfacciata opulenza dei pochi contro il necessario per la sopravvivenza dei tanti i soprusi sui deboli e prosperano gli sciacalli che si arricchiscono sulla militarizzazione e l'inquinamento sulla disoccupazione e il lavoro nero sulla droga e la prostituzione minorile sulla schiavitù degli inermi oggi parlare di bene comune è diventato di moda ma attenti alle contraffazioni un'etica senza la componente verticale relazione con l'assoluto non è razionalmente sostenibile né possibile se non nella forma del buonismo ipocrita e narcisistico se lo dice l'analisi darwiniana dell'evoluzione selvaggia ancora l'etica ontologica può essere supportata dall'empatia naturale grazie ai cosiddetti neuroni specchio ma l'empatia non è etica totalmente diversi sono i piani l'empatia è un fenomeno psicologico organico genetico l'etica coinvolge invece la libertà di ogni ripetibile individuo una libertà che non è quella che la scienza vorrebbe osservare e misurare sui riflessi neuronici o dice di veder contraddetta dal fatto che le nostre scelte sembrano precedere di qualche frazione di secondo la loro consapevolezza come se si trattasse di determinismo o automatismo mascherato la libertà etica non è neppure quella che la meccanica quantistica credi di veder negata dal principio di indeterminazione la ragione è profonda e univoca dipende dal fatto che il piano oggettuale della scienza non è quello dell'esistere relazionale che è libero e sa di esserlo del resto solo sulla libertà etica può fondarsi la comunità umana se la si negasse crollerebbe tutto e in ognuno e in ogni gruppo varrebbe il diritto alla violenza contro tutti la relazione etica interpersonale è la radice della rete parentale comunitaria e sociale in ambito locale e internazionale senza etica l'umanesimo anche come parola sarebbe vuoto di senso vuoto sarebbe anche ogni giudizio di merito e di valore ogni utopia vuoto sarebbe l'auspicio di pace di convivenza solidale se l'etica non è possibile senza la componente verticale da non intendere in senso confessionale non è possibile neanche senza la componente orizzontale ci ammonisce la parola biblica chi dice di amare credere in Dio ma odia suo fratello è bugiardo se cristiano è chi nello stesso atto ama Dio e il prossimo la fede di ognuno non può limitarsi a una professione verbale ma deve interrogarsi nell'interiorità sulla propria coerenza etica così chi crede di essere cristiano potrebbe non esserlo e viceversa il teologo gesuita Karl Rahner denomina cristiani anonimi gli etici non confessionali e non cristiani anonimi i cristiani professi che non interpretano correttamente il senso delle loro parole e dei loro comportamenti se così fosse come sembra la chiesa universale del cristo potrebbe non coincidere esattamente con quella istituzionale in effetti i più perfidi interlocutori di gesù di nazareth sono gli scrivi e i farisei che dicono di credere e si ritengono giusti c'è lo stellato e legge morale questo discorso etico radicato nel cristianesimo è in piena sintonia anche con la trattazione rigorosamente razionale di Kant il filosofo per il quale come già accennato il mondo fisico è fenomenico vede nell'etica denominata legge morale l'esperienza umana del reale lo umeno proprio per questo Dio in quanto di per sé non oggettivabile non è dimostrabile con la ragion pura è testimoniabile invece solo con la ragion etica il comandamento cristiano dell'amore del prossimo concide con l'imperativo etico che anche Kant fonda nell'assoluto e formula così agisci in modo da trattare l'umanità sia nella tua persona sia in quella di ogni altro sempre come fine e mai come mezzo potrebbe sorprendere allora che nonostante la contrapposizione valoriale tra fenomeno e no umeno Kant ponga sullo stesso piano come oggetto del suo stupore il cielo stellato e la legge morale due cose riempiono l'animo di una sempre nuova e crescente ammirazione e timore il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me critica della ragion pratica capitolo 34 ma c'è una ragione il fatto che il cielo stellato cioè il mondo fisico e oggettuale sia fenomenico non significa che non esista esiste come rappresentazione con la sua bellezza stralipante come metafora del trascendente che solo nel rapporto etico si vive realmente quel mondo fenomenico che normalmente secondo il principio di causalità chiamiamo creato creato effettivamente lo è nel senso che c'è dato interamente anche se le modalità bibliche dell'evento creativo andrebbero meditate con l'intensità simbolica della poesia la scienza partecipa del fascino della natura che indaga e così risulta inconcepibile che molti scienziati del nostro tempo per autosuggestione credano di essere quasi inventori o creatori delle meraviglie che vi scoprono mentre dovrebbero esserne solo testimoni o messaggeri Galileo fondatore della scienza moderna e Newton promotore dell'astrofisica entrambi profondamente credenti affermano di voler cercare nel mondo le orme del creatore con la convinzione che il racconto della scienza non possa non essere compatibile nelle diversità espressive con quello della fede Bibbia tradizione sacramenti la metaforicità del linguaggio decodifica persino l'impalcatura metafisica dei dogmi come il mondo fisico e la sua scienza ridondanti di simboli rinviano all'etica anche l'etica nella sua invisibilità fisica si esprime con simboli ispirati al vissuto quotidiano le nostre metafore sulle due sfere sono sempre sfumate ed evocative come opere d'arte aperte ad orizzonti sempre più vasti ma in ultima istanza il loro intreccio simbolico porta alla trascendenza dell'etica affascinati dall'estrema logica della natura che del resto è quanto rende possibile la scienza parecchi scienziati di oggi pur dichiarandosi atei o agnostici sembrano disposti a riconoscere l'esistenza di un assoluto come quello di Spinoza che coincida con la natura stessa o la inglobi ma respingono come ingenua l'idea di un dio personale come quello biblico o cristiano il che sembra in contrasto con le loro stesse premesse il dio di Spinoza è un'entità metafisica di tipo aristotelico perfetta autonoma e come tale analizzabile nei suoi attributi e modi come data la presupposta trascendenza di dio sarebbe illogico fare pensare invece un dio persona ad esempio come padre se conciò non si antropomorfizza potrebbe significare limitarsi a considerarlo simbolicamente come fondamento del nostro esistere etico come polo della nostra relazionalità senza la presunzione di poterlo definire nella sua assolutezza una visione nell'ottica umana che pare molto più coerente di quella di una metafisica oggettivante e ancor più di una scienza fisica che adotta l'idea metafisica in versione naturalistica i scienziati di cui sopra cadono nella loro semplificazione sviante già quando dei due livelli kantiani ignorano il noumeno per assolutizzare il fenomeno come realtà prima e ultima un materialismo che si basa sulla contraddizione concettuale di dare per scontato quanto si vorrebbe o dovrebbe dimostrare e così stando all'ottimismo scientista la scienza crescendo dovrebbe svelare ogni mistero risolvere ogni problema manipolando il genoma umano promette di giungere un giorno a estirparne persino l'aggressività e rendere obsoleta l'etica è un fatto invece che trattato come oggetto materiale umano l'uomo diventerà robot senza relazioni reali senza identità macchina destinata a esprimere la sua inutilità quando altre macchine artificiali la supereranno in intelligenza tecnica quando cioè il produttore diventerà prodotto del proprio prodotto dio non voglia che l'apoteosi del mondo umano si celebri un giorno nella torre o tomba di babele sembra che il mito platonico della caverna valga anche per questa categoria di scienziati nei quali il pregiudizio di fondo è ancor più radicato che nell'uomo comune sarebbero come prigionieri incatenati e immobili che credono come unica realtà le ombre che vedono proiettate sulla parete della grotta oscura incapaci di dar credito a chi liberandosi delle catene vede dietro le spalle dei compagni il fuoco che con la luce produce l'illusione delle ombre e varcando la soglia scopre il sole metafora di bellezza e del bene etico contemplazione biblica l'idea contemplativa di kant sul cielo stellato e la legge morale si arricchisce di fascino nella preghiera di lode di davide sul cielo stellato salmo ottavo oh signore signor nostro quanto è grande il tuo nome su tutta la terra hai posto sui cieli la tua magnificenza quando contemplo i tuoi cieli opera delle tue dita la luna e le stelle che vi hai disposto che cos'è l'uomo che ti ricordi di lui o il figlio dell'uomo che tu ne debba aver cura eppure tu l'hai fatto per poco meno di dio l'hai coronato di gloria e maestà e hai dato il dominio dell'opera delle tue mani ogni cosa hai posto sotto i suoi piedi o signore signor nostro quanto è grande il tuo nome per tutta la terra e sulla legge morale salmo 133 oh quanto è bello e quanto è soave l'abitare dei fratelli insieme è come l'olio sul capo che scende sulla barba sulla barba di aronne e cola sullo scollo dei suoi paramenti è come l'ugiata dell'ermon che scende sui monti di Sion perché là il signore elargisce la benedizione la vita nei secoli di Sion Grazie a tutti